E' stata giudicata in via provvisoria alla RTI Gruppo Ideazione SRL Cube Comunicazione SRL l'ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione integrata del Corteo Storico di San Nicola, edizione 2022. Questo l'esito al termine dei lavori della Commissione Culture del Comune di Bari, giudicatrice della gara. Si procederà ora con la verifica dei requisiti di partecipazione prima della giudicazione definitiva. Alla gara, con la formula dell'accordo quadro, erano state presentate due offerte. Oltre al gruppo ideazione, ha partecipato al bando Password SRL. Il gruppo ideazione, presieduto da Christian Calabrese, si era giudicato il bando nel bienio 2020-2021, quando però, a causa della pandemia, il corteo è stato annullato. Lo scorso anno, invece, lo stesso gruppo, sempre con la regia di Valenzano, che ha curato la direzione del corteo dal 2012 al 2014, ha organizzato lo spettacolo della piazza della Basilica di San Nicola, che ha sostituito la tradizionale rappresentazione omaggiando Nicolaus e Vene dal mare, commedia di Vito Mauro Giovanni. Come dicevamo, la giudicazione per ora è provvisoria e si aspetta quella definitiva dopo le verifiche. Intanto manca poco più di un mese all'evento più atteso dai baresi.